Salve gente, sono Larus ed eccomi qui per fare un annuncio a tutti voi Il primo annuncio che voglio fare è che abbiamo vinto il contest di Game Tellers Siamo arrivati i terzi, però siamo tra i vincitori E sono molto contento, abbiamo vinto con l'Epic Fantasy 2 E abbiamo preso 49 punti su 60, quindi sarebbe uno proprio medio Sono molto soddisfatto, ringrazio tutto lo staff di Game Tellers Tutti i miei fan che mi hanno supportato fino a qui E volevo anche congratularmi personalmente con Francis Drake e Gaming Nation IT Che sono stati dei grandi, sono arrivati Francis Drake II e Gaming Nation I E volevo congratularmi con loro per la vittoria Vittoria strameritata anche per loro E sono contentissimo E sono anche per, sono qui a dirvi che dal prossimo Epic Fantasy Gli Epic Fantasy saranno totalmente aperti al pubblico Cosa vuol dire? Che praticamente se voi volete partecipare ad un Epic Fantasy E avete il gioco in cui tratteremo questo Epic Fantasy Potete partecipare pure Basta che vi mandate un messaggio Steam su Skype Che trovate tutto in descrizione del video E anche nella descrizione del canale E cercherò anche di reclutare un po' di persone Non solo miei fan Ma anche delle persone un po' Più o meno famose Più o meno Con cui ho avuto a fare il prossimo Epic Fantasy Se avete dei consigli a darvi Datemeli subito E grazie gente E ora vi lascio una clip speciale Oh Dio Oh Dio Oh Dio Oh Dio Pauro 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 Stanno errando i niggas Oddio Oddio Hai paura dei niggas Hai paura dell'uomo nero Dai Attena Attena Stai giocando di costruire gli ingegniari Costruisci dai Non farti impanicare Stai giocando di costruire gli ingegni